Addirittura un terzo degli adulti e dei teenageri in buona salute afferma di sentirsi sempre stanco e assonnato. Scopriamo da cosa dipendono i cali di energia. Chiedo scusa. Per cominciare, bisogna evitare di mangiare carboidrati raffinati, come lo zucchero. Sul breve termine danno energia e aumentano la glicemia del sangue, ma si tratta solo di un effetto temporaneo che precede il ben noto calo di zuccheri. Questi continui sbalzi di energia creano un circolo vizioso che può fare danni. Ecco perché mangiare troppi zuccheri porterà solo un senso di spossatezza durante la giornata. Pensa al tuo telefonino, che ricarichi ogni volta che la batteria si scarica. Finché è in carica tutto bene, ma quando stacchi il cavetto, ecco che rapidamente la batteria perde tutta la carica. Ridurre la quantità di zuccheri e carboidrati raffinati che mangi manterrà alti i tuoi livelli di energia durante il giorno. Rimpiazza i dolcetti con un po' di verdura fresca e noterai ben presto la differenza. I tuoi livelli di energia dipendono da quello che mangi. Il tuo carburante sono le calorie. Se la tua dieta non contiene abbastanza calorie, il tuo metabolismo finirà per rallentare, proprio per non consumare preziose energie. Risultato? Andrà in giro tipo zombie. Da adolescenti, il fabbisogno è di 2800 kcal al giorno per i ragazzi e 2200 kcal per le ragazze. Passata l'adolescenza e diventati adulti, il fabbisogno giornaliero scende a 2500 kcal per gli uomini e solo 2000 kcal per le donne. Un'altra sostanza fondamentale per la tua energia giornaliera sono le proteine, contenute nella carne, specialmente manzo, agnello e pollo. Anche i latticini, le uova e il pesce sono ottime fonti di proteine. Quando avverti una forte stanchezza, occhio al consumo di caffeina. Pensiamo tutti che un bel caffè a metà pomeriggio sia la soluzione per tenerci pimpanti, ma così rischi di rovinarti il sonno. Secondo quanto si dice in giro, la caffeina resta nell'organismo per 5-7 ore. Infatti tutti sanno che non fa bene bere caffè prima di dormire. Ma in realtà la caffeina resta nell'organismo il doppio del tempo, tra le 10 e le 14 ore. Diciamo che bevi un caffè alle 3 di pomeriggio. Alle 10 di sera, quando si avvicina all'ora di andare a letto, hai ancora della caffeina nell'organismo e quindi livelli di energia troppo alti per riposare. Alle 4 del mattino, la caffeina sarà ancora in giro nel tuo organismo. Rischi di passare una nottataccia a girarti e a rigirarti nelle lenzuola. Il rimedio è molto semplice. Evita di bere bibite energetiche e caffè dopo pranzo. Si dice che servano 8 ore di sonno per essere al massimo il giorno dopo. Da adolescenti però ne servono di più e si tratta di un dannoso malinteso in cui cadono in molti. Se devi svegliarti alle 7 per andare a scuola, per dormire 8 ore, vai a letto alle 11 di sera. Bisogna considerare però che può volerci anche un'ora prima di addormentarsi. Cerca di capire in media quanto ci metti e calcola bene le tue 8 ore di sonno. Dopo un paio di settimane, l'organismo si sarà abituato e ti sentirai meglio. Un'altra pessima idea è metterti a letto a guardare Netflix prima di dormire. Nel tuo letto devi soltanto dormire e le luci dello schermo non ti aiuteranno a farlo. Anzi, bisognerebbe proprio evitare di fissare schermi luminosi per almeno un'ora prima di andare a dormire, magari anche di più. Significa niente smartphone, laptop e televisione. Le luci degli schermi bloccano il rilascio dell'ormone del sonno, la melatonina, e il tuo organismo non riesce a rilassarsi quando ti metti a letto. La luce confonde la parte del cervello che deve rilasciare quell'ormone. In pratica, pensa sia ancora giorno e ci fa restare svegli e nel pieno delle nostre energie. Se vuoi fare bene le cose, libera la tua stanza da letto da ogni aggeggio elettronico. Via lo smartphone e prendi invece un bel libro che ti aiuterà a rilassarti e ad addormentarti dolcemente. Anche un audiolibro può fare al caso tuo. Un'altra ottima cosa per assicurarti di dormire bene ogni notte è montare tende oscuranti alle finestre. Se non vuoi spendere soldi, basterà mettere davanti alle finestre un lenzuolo oscuro. In questo modo, quando la luce del mattino entrerà nella tua stanza, non sarà abbastanza forte da svegliarti prima del tempo e potrai continuare a sognare cuccioli e gattini, o chissà cosa. Per sentirsi freschi ed energici durante il giorno, è importante l'esorcizio fisico. Ci aiuta anche a dormire bene. Pensiamo di solito che dopo una lunga giornata a lavoro o a scuola, per ricaricare le batterie, basti sdraiarsi sul divano. Invece, anche se sembra un sacrificio, bisogna fare un po' di movimento. Bastano anche solo 15 minuti. Non si parla di cominciare ad andare in palestra ogni giorno. Prendi l'abitudine di fare una passeggiata ogni giorno. Anche qui, niente di massacrante, basta una mezz'oretta di sana camminata. Sono tre le piccole abitudini giornaliere da mantenere per una vita attiva. Sulle brevi distanze, cammina e lascia a casa l'auto. Basta ascensore, usa le scale e stai in piedi invece di sederti ogni volta che puoi. Se lavori a casa o in ufficio, prova una scrivania ergonomica per lavorare in piedi. I jumping jack sono il migliore esercizio giornaliero che puoi fare. Fanno lavorare tutto il corpo e stimolano la circolazione. E si fanno a corpo libero. Quindi sono ideali per quei momenti in cui ti cala sonno in ufficio a metà pomeriggio. Ancora più importante per sentirti sempre in forma è la tua routine sonno-veglia. Cerca di andare a dormire e di svegliarti al mattino sempre alla stessa ora. Specialmente da adulti, andare a dormire alla stessa ora sia nei giorni lavorativi che nel weekend aiuta a sentirsi meno stanchi e risolve i problemi di insonnia. Così come le piante appassiscono se non ricevono troppa acqua, anche il tuo organismo ha bisogno di una costante ricarica di H2O. Bere tanta acqua ogni giorno ti aiuterà a mantenere sempre alti i tuoi livelli di energia, sia che tu debba scalare l'Everest o andare a fare spesa. Lo stress consuma un sacco delle nostre preziose energie. Se hai una scadenza di lavoro importante o un esame, cerca di evitare lo stress così. Ascolta la tua musica preferita, leggi un bel libro, esci a divertirti con i tuoi amici, prova a praticare yoga o meditazione. Su internet trovi un sacco di tutorial per fare yoga a casa. La meditazione è ancora più semplice. Basta sedersi comodi in un posto tranquillo e concentrarsi sulla respirazione. Bisogna, come sempre, fare le cose con regolarità. Se provi la meditazione per la prima volta, limitati a 5 o 10 minuti. Su internet puoi trovare anche compilation di suoni rilassanti che ti aiuteranno a concentrarti e a meditare. Fai insomma tutto ciò che trovi rilassante per combattere lo stress e conservare le tue energie. Se però hai provato di tutto e di più e ancora senti stanchezza, forse il motivo è un altro. Le intolleranze alimentari sono un nemico subdolo e danneggiano l'energia e il sonno. Le più comuni sono quelle al glutine, ai latticini e alle uova. Tanta energia si nasconde anche nelle vitamine. Puoi assumere ferro mangiando spinaci, broccoli, carne rossa o tacchino. La vitamina D si trova in quantità nei funghi, nel pesce, nei frutti di mare e soprattutto nella luce del sole. Latte, uova e carne sono una grande fonte di vitamina B12. Se non ti va di modificare le tue abitudini alimentari, compra degli integratori, andranno bene lo stesso.